della dashboard regionale per quanto riguarda il dato sui nuovi positivi, 525 nuovi positivi nella giornata di oggi, sabato 24 ottobre. Questo secondo i tamponi processati nelle ultime 24 ore, ovvero quasi 4.000 tamponi, 269.993.000 era il dato di ieri con i 273.906 tamponi effettuati fino ad oggi, quindi siamo quasi intorno ai 4.000 tamponi processati per un altro dato record di positività, quindi 525 dopo i 447 casi di positività di ieri. 4.026 sono gli attualmente positivi in Umbria, possiamo anche evitare di indicare TG Sport, regia per favore, in sovraimpressione. Bene così, allora vi aggiorniamo nuovamente per questa finestra dedicata al bonettino ufficiale di oggi, sabato 24 ottobre, nuovi 525 positivi su più di 3.000 tamponi effettuati per 4.026 persone attualmente positive, sono 4 i nuovi ricoveri in terapia intensiva, quindi 25 nella giornata di oggi, erano 21 nella giornata di ieri, quindi altri 4 ricoveri in terapia intensiva e sono complessivamente 228 le persone ospedalizzate, quindi parliamo di altre 24 persone ricoverate, quindi 228, 24 persone ricoverate nella giornata di oggi, di cui 4 in terapia intensiva, quindi 25 le persone in terapia intensiva complessivamente in Umbria. Questi sono i dati di oggi a cui vanno aggiunti quelli relativi ai guariti più di 200, quindi sono circa 270 i guariti nelle ultime 24 ore in Umbria, pazienti affetti da Covid-19, quindi questa è una finestra eccezionale, il nostro Tg Sport che va a integrare il tre giornale proprio legato all'aggiornamento della dashboard regionale per le nuove positività in Umbria. altro dato record, lo ricordiamo dall'inizio della pandemia, 525 nuovi casi di positività e 4 ricoveri in terapia intensiva, purtroppo ecco l'aggiornamento che arriva proprio adesso, altri 2 decessi, quindi i decessi complessivamente salgono quota 102, quindi 2 persone decidute nelle ultime 24 ore, persone affette da Covid-19.